Ciao a tutti, sono Giulia Machaboom24 e siamo tornati con un nuovo video qui sul mio canale e oggi finalmente andiamo, iniziamo con il programma stabilito, ovvero il programma nuovo se ancora non l'avete capito il programma vi lascio, no non vi lascio il link in descrizione perché comunque è l'ultimo video che ho fatto quindi andatelo a vedere altrimenti mi scordo di metterlo in descrizione e dopo mi dimentico e via comunque, come avrete letto dal titolo, vi mostro come avere i soldi finiti su Pooh allora questo è un video così perché non avevo niente altro in mente e dato che oggi dovevo far uscire un tutorial, la cover ancora non ce l'ho pronta e i video che mi avete richiesto voi come tutorial erano troppo complicati per farli in questo momento non ho potuto e quindi comunque se vi saranno utili usate, vedete questo video e poi oggi sono contenta perché non è che ho marinato la scuola ma dato che io sono di Roma oggi nevica e sono contentissima perché non nevica dal 2012 quindi non siamo andati a scuola perché le scuole sono chiuse, yeah comunque credo che anche da voi, non tutte però, vabbè non importa, iniziamo allora, bisognerà semplicemente andare nel link che vi lascio in descrizione ok, ovvero questo link che vi porterà ad una pagina di Mediafire e noi dovremmo semplicemente cliccare su Download e dovrebbe dire Avvio Download in Corso che non so perché non si sta scaricando, un attimo vedo che succede ok, una volta scaricato vi ritroverete in questa schermata ovvero basterà semplicemente che cliccate su, una volta che vi dice Apk installato e dovrete cliccare su Installa ma questo è il procedimento di ogni file Apk che si installa appunto da internet e quindi aspettiamo una volta scaricato dovremo semplicemente cliccare su Apri e come vedrete abbiamo le monete illimitate infatti se io per caso volessi per esempio comprargli un vestito e qui e voglio per esempio questo, anzi quello di Natale che è più carino ma ecco siamo proprio in tema Snowpoo, oggi in edica quindi è perfetto vi dirà che quest'articolo è sotto chiave, aspetta che si sblocca o aprilo subito con 1999 monete non abbiamo il livello perché siamo ancora a livello 1 ma semplicemente bisogna cliccare su Unlock, aiuto e comprarlo dato che ci serve adesso mi sono appena accorta, un attimo non so se l'ha comprato questo perché mi sa che mi serve la pozione per farlo diventare adulto ma questo non c'entra perché comunque eh, devo per forza avere la pozione per farlo diventare adulto ma oddio mio dove stanno le pozioni come vedrete si paga con i soldi veri quindi non posso comprarlo no infatti che pizza, proprio una cosa carina no, quindi niente ho cliccato proprio la cosa più sbagliata comunque come vedrete sono veramente illimitato infatti io posso comprare tutto il cibo che voglio e come vedrete non diminuisce nulla adesso magari andiamo a comprare un vestito che serva veramente nel senso per esempio un colore della pelle verde acqua è bloccato ma io posso sbloccarlo sì e eccolo qua oppure e vedete che non ho speso nulla un vestito per esempio questo lo posso sbloccare e comprare invece per quelli che sono bloccati perché non avevo il livello alto abbastanza infatti ho bisogno di avere un po' adulto comunque io vi assicuro che questo trucco funziona vi lascio sempre il link in descrizione e se questo video vi è stato utile o vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like un commento ed iscrivervi al canale perché siamo quasi 90 iscritti grazie mille e niente noi ci rivediamo domani con un prossimo video sì domani sì e ciao a tutti